avvio la registrazione ci siamo ciao a tutti io sono sonia e siamo tornati finalmente a registrare dei nuovi video e come vedete c'è qui con me riccardo perché ha deciso di svegliarsi quando stavamo iniziando a registrare e sì perché stavamo iniziando a registrare in questo video non sono da sola ma con me c'è ok c'è Mary non so se si è sentito perché ho sentito tipo ciao ecco perfetto ok e io tra l'altro eccola dove è è comparso Maryanne si è teletrasportata eccola sì ci siamo stiamo registrando un saluto qui perché non so da Fogna dove si è inquadrando un trovo da qui tra l'altro quando stai di spalle in realtà mi sto inquadrando giusta oggi quando sei di spalle sembra che hai il cervello tipo cioè non hai un'acconciatura hai un cervello va bene Mary batte le mani benvenuti prendete posto da quant'è che non ci sentiamo Mary mamma mia un botto e vabbè più di dieci giorni perché comunque è nato ragazzi potrò far vedere la mia sospesa che ho preparato a Sonia perché come avrete sicuramente letto dal titolo Mary ha tanto insistito che io trovassi cinque minutini perché però adesso è un po' complicato per fare questo video dove andiamo Mary nel frattempo? se vuoi no vai io ho fatto no però no 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 ma sai facciamo no più che altro perché io ho lui in un braccio quindi non saprei come giocare e quindi Mary mi ha detto che quando riuscivo voleva doveva darmi una sorpresa per me per diciamo un regalo come per la nascita di Riccardo io le ho detto che naturalmente non doveva ma lei ha insistito tanto vero Mary che ha insistito però io vi faccio il regalo per la benvenuta di tanto grazie mille in anticipo e quindi Riccardo è qui con noi ciao Ricky si in questo momento sta ciucciando vuoi vederlo adesso facciamo un altro sta ridendo comunque Riccardo nel sonno lui ride allora allora non lo so vuoi apriamo prima apriamo qualcosa nuovo cosa vuoi fare decidi tu io nel frattempo ragazzi sto studando qui oggi c'è praticamente dove stai andata mi ti trasporto su di te c'è una delle giornate più calde oggi ah poi guarda che mi sono ricordata che hai partorito eh ah si ho letto un commento devi fare dolce come io poi un giorno quando ma i dottori mi hanno detto di essere molto prudente tranquilla non so se posso poi sai non vorrei svegliare Riccardo con un urlo no 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 lo sai qual è il pericolo adesso ah perché ah ok mi è arrivata la missione del saloon io no lo sai qual è il pericolo adesso Mary che se io urlo e mi spavento magari mi si scusi un punto ah sei ancora a fare che c'hai punti qualcuno si mi hanno dato una batteria di pettole vieni 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 si andiamo al centro andiamo se è sotto bella offerta comunque ci sta Alex c'è Alex io ho ci dicono da lui lo salutiamo vai andiamo io ho io non c'ho la missione comunque se è vero io ho il salone eccolo ciao Alex e sarà al salone ma ora sono andata a salutarlo dove sei tu? non è al salone per te no è qui infatti ora se ne accorto sta tornando indietro ciao ciao Alex poi vedrai il video se lo vedrai scrivi tu per me io ho tutte le mani occupate ciao ti saluto anche Sonia accipate in arabo gliel'ha scritto Mary ce l'accipate le mani e ce l'accipate e allora e infatti infatti milla mi potevo fare prendere un mi volevo dare un passaggio da Alex con la moto si si butta sotto ha le mani occupate ha le mani occupate è siciliano quella che vuoi ma pensavo più napoletano ha occupate ci si è buggato aspetta chi? chi si è buggato? ti confuse buongiorno senti lo vorrei Fuchsia questo anzi no facciamolo blu azzurro azzurro in onore di Riccardo per ora ha tutta la pelle tipo la pelle morta tipo ah si dopo che nascono no? faccia a poco a poco ma nel corpo pure tipo nelle pieghette del corpo man mano che si lava si toglie quella pelle si si e quindi che carino ma non si colora perché? perché non si colora? ma non è quello è il mio quello ah si si è colorato si è colorato ah ecco perfetto vai andiamo a dormire ah deve si a dormire ma lo sai che non sapevo che c'era questa cosa? ha fatto il bravo ah un attimo che c'è stata un'invasione di campo c'è mio figlio Leonardo che c'è amore vieni qua ho fatto il bravo hai fatto il bravo? si va bene gli stiamo dando un altro bacino va bene allora va bene allora digli a papà ride ride lui digli a papà che ti puoi prendere il giochino dai chiudi la porta quando esci va bene amore? mi ha dato una coltina è un po' dolce vedrai vedrai nel video che gli ha dato un bacino in automatico lui non ce la fa a stagli vicino senza dargli baci però meno male ma le hai preso due e me le ho legato si eh ragazzi devo riuscire il problema è questo dai nel frattempo andiamo a vedere la sorpresa vai non so troppo eh aspetta ormai facciamolo no? il problema ma tu già si sa bene si infatti ma come a Marte non arrivano scusami ma che ne so io vabbè ma dobbiamo fare la doccia andiamo a casa oh doccia vai vai prima che mi stacca tutto no mi devi dare il regalo prima comunque e quindi ti dicevo ah nel senso ad agosto forse qualcosa riesco a farla un po' di più perché ci sarà Stefano a casa dalle ferie settembre Leonardo rinizierà la scuola quindi oh dobbiamo resistere devo resistere vabbè comunque c'è Leonardo devo mangiare a dormire quindi si ma infatti infatti diciamo per adesso già settembre penso che sarà un po' più c'è una madre che lo ha fatto l'altra volta quando ho visto il video tipo si sentiva adesso facciamo quale? sai che non me lo ricordo l'ultimo di comunque ma senti non ti ha fatto ridere quel video lì a me mi fa ridere ogni volta che lo vedo quando quando entri e apri la porta si guarda che c'è di nuovo blu dopo che ti io ho aperto una porta c'è di nuovo blu cioè ti stavo raccontando cosa stava succedendo a te io ho aperto la porta e c'è allora vai fai porta di avanti perché io ho l'ultima io ho aperto la porta e c'è la gialla guarda mia la porta c'è la blu cioè non è solo un regalo è anche una sorpresa una sorpresa una sorpresa una sorpresa che cosa sarà? allora ora ti spiego ho fatto una piccola casa mmm con una sorpresa però in questa casa c'è anche una sorpresa per Alex che è un breve suo compleanno diciamo ho fatto una casa per i party per i compleanni ok io vedrò tutto e poi no questa casa poi ogni tanto verrà tipo ogni party verrà giusto sistemata in modo da i gusti di la persona che verrà festeggiata ok lo voglio il compleanno Sonia eh sì vabbè il 30 gennaio ne hai tempo oh mi è andata via la mission ok ok stiamo andando ok ragazzi ci siamo ci siamo ma controllo stai registrando si sto registrando però vabbè lo taglio vabbè sì non vorrei dirvi i dettagli del mio utero oh no siamo troppo cemente sì infatti due piragni ok cosa sono i piragni tra l'altro comuni va bene dai Mary sorprendimi con la tua sorpresa dimmi cosa dobbiamo fare ok esci di casa sì poi mi stai cacciando bella sorpresa ok anch'io ok devo cambiare casa deve cambiare casa ragazzi sono molto curiosa cosa sta con cosa non ho visto quanti giorni mille e un giorno non ho visto ma io quanto ho invece un giorno un giorno mille solamente mille giorni in meno ok sei pronta? sì non posso saltare ecco salto in realtà non so che canzone c'è sotto quindi mi vuole farti i copyright perché tu non puoi cioè non vedi non vedono neanche nel video ma io sto facendo tutto con la destra ah ma sai cosa in realtà non ho l'audio quindi non sto registrando l'audio ok scusami aspetta aspetta la rifaccio perché ho inquadrato proprio a destra wow scusate ragazzi ma avevo fatto un'inquadratura che non potevo vediamo qui oh che carino ma è troppo bellino ma che bello allora voglio ringraziare Elena per questo panda che l'ha fatto lei ma che carino ma come mamma mia aspetta mannaggia scusate vabbè in caso censuro non ho capito perché ogni tanto giro troppo la cosa e si inquadra a destra capito questa parte qua la puoi registrare questa parte qui sì sì solo questa parte qua eh però ogni tanto quando ruoto si vede un pezzo quindi vabbè vedrò di censurarlo in caso anche la zona regali puoi registrare che carino si troppo bellina ah guarda c'è anche un regalo area AFK un regalo sì sì se lì ci sono nella patrona regali ah sì 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 ok ma che carino comunque ma qua invece cosa c'è? nella zona pezzo ah ma troppo carino bravi comunque ma l'hai fatto tu da solo o ti hanno aiutato? mi hanno aiutato bravi il telefono anzi faccio così ok ragazzi se ogni tanto vedete qualche taglio brusco è perché ho dovuto censurare una zona della casa che non può essere ancora vista sì oh e questo è il tuo regalo? aspetta molto gentile eh è così che si tratta una neo mamma? eccolo oh ma che carino grazie aspetta che sto cercando di alzarmi ma che carino aspetta se si toglie la scritta io posso leggere anche la descrizione benvenuto Ricky la zia Mary grazie Mary non dovevi? ma che carino eppure sai ora che ci penso il suo animale totem lo sai qual è? che io l'ho scoperto dopo ah sì il panda la tigre no la tigre la tigre la tigre tipo le bomboniere con la tigre infatti quando ho visto le bomboniere le ho detto a prima questa c'è che almeno è una tigre però siccome voglio fare la passata perché io voglio fare un orset in realtà ma no ma il panda è troppo carino è proprio un panda più semplice no il panda è troppo carino grazie in ogni caso non dovevi veramente lo farò vedere a Ricky quando si sveglierà io non sento più il braccio in tutto questo non sento più il braccio lui è qui che dorme vabbè ti rata adesso e non guardare questo video no no non si vede non si vede sono stata brava vabbè tanto il 18 è vicino non si vede sono stata brava Mary comunque Mary grazie aspetta ho fatto un rutto questo è stato Riccardo questo ormai se non rutto in un video no ma comunque sai cos'è? lo sapete cos'è? ecco ora dice Mary che non posso dare la colpa a Riccardo ah Riccardo in questo momento è appoggiato sulla mia pancia capito? quindi è la stessa cosa si ma stiamo parlando adesso si spera di non dare la colpa a Riccardo ragazzi ringrazio ancora Mary Mary grazie mille non dovevi Riccardo ha una faccia veramente si vede grata una grata guarda che faccio comunque aspetta vediamo se riesco a farvi vedere la faccia cioè ma si vede che è proprio soddisfatto eh comunque grazie sì infatti dallo studio no alla regia com'era? la linea alla regia no com'era? la linea allo studio linea allo studio da Mary e Sonia è tutto oh no no ho spoilerato va bene lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto e commentate sotto facendomi sapere e ringraziamo tutti quanti a Mary un ringraziamento comune e iscrivetevi al canale giusto se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo a un prossimo video e dove potremo farlo il prossimo video? scrivetecelo sotto ciao ciao ciao